Finisce agli arresti domiciliari il quarto destinatario dei provvedimenti restrittivi emessi dal GIP del Tribunale di Foggia nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto tre poliziotti. Si tratta della guardia giurata Alfredo Cavallo, di 46 anni. Le accuse contestate a Cavallo sono di corruzione, accesso abusivo ad un sistema informatico falso e peculato. Le stesse accuse dei poliziotti. Ieri gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla locale procura della Repubblica, avevano arrestato l'assistente capo Angelo Savino in servizio al commissariato di Manfredonia, l'assistente capo Alfredo De Concilio in servizio al reparto mobile di Napoli, i due sono in carcere, e Paolo Ciccorelli in servizio alla polizia postale di Foggia che è ai domiciliari. Gli indagati, secondo l'accusa, avrebbero svolto indagini private illegittime su presunte infedeltà coniugali.